Una buona giornata e ben ritrovati su Meteo Giuliaci. Un saluto a Giuseppe Daviti. Se inizia male questo weekend, ma attenzione, buone notizie per la giornata di sabato e domenica tenderà a migliorare. Ma intanto molte nuvole al centro e al nord, qui la perturbazione dispenserà ancora piogge, rovesce, temporali, fenomeni più intensi e convinti. Li avremo sul Levante Ligure, sull'Emilia Romagna, Toscana, Umbria, marche centrosettentrionali, ma comunque su buona parte delle regioni centrali avremo piogge sparse. Piogge sparse soprattutto in una seconda fase anche al nord, sul nord-est, anche su zone pianeggianti, sui rilevi alpini e prealpini in generale. Tenderà a migliorare sul nord-ovest invece un po' di nuvole sulla Sardegna, poche nuvole invece all'estremo sud. Cari amici, è tutto, io vi auguro di trascorrere un buon inizio di weekend. Arrivederci!